di favorire le economie di mercato, favorire il lavoro e far rientrare queste tasse allo Stato quando la ricostruzione sarà quasi completata. Al momento è abbastanza ancora in alto mare, siamo circa un terzo di completamento, quindi le imprese lo chiedono a voce grossa. Questo diniego da parte del Governo è ingiustificabile e sarà di pregiudizio alla stessa entrata di nuovi tributi all'interno delle casse pubbliche. Quindi chiediamo che sia dato respiro alle imprese, lo chiediamo prima di tutto per gli imprenditori, per i cittadini terremotati, ma anche per lo Stato, visto che con questo provvedimento ne trarrebbe giovamento. Grazie, Presidente. La ringrazio, lo poniamo in votazione col parere contrario. Onorevole Tripieti lo sottoscrive, va bene? Votazione aperta. Parere contrario. Totaro Palma Ravetto Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge 28 Pesco, parere contrario del Governo Dichiaro aperta la votazione De Lorenzis Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge 30 Pesco, parere contrario, votazione aperta Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge 31 Alberti Parere contrario, votazione aperta Ci siamo? Pannarale, ricordo che il successivo è quello dell'onorevole Sibiglia che ci deve dire se accetta la riformulazione. Ha votato l'onorevole Pannarale, perfetto, la votazione è chiusa La Camera respinge Quindi 33, riformulato, va bene 34 Sorial, c'è il parere contrario Dichiaro aperta la votazione Piepoli Piepoli Tancredi Binetti Binetti Cronbicler E la votazione è chiusa E la Camera respinge Santelli Santelli Contrario Numero 36 Votazione aperta Ravetto Archi Archi non riesce Donati E' riuscito l'onorevole Donati No Epifani ha votato Lattuca Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge Siamo al Corda Numero 37 Contrario Governo Votazione aperta D'Agostino D'Agostino Fabri Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge Siamo al Labate 39 Contrario Il Parere del Governo Votazione aperta Stella Bianchi ha votato No Altri Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge Siamo al Trippiedi 19 Contrario Il Parere del Governo Votazione aperta Palese Giammanco Simoni Gandolfi Grazie Grazie Dichiaro chiusa la votazione La Camera respinge 43 Lombardi Parere contrario Votazione aperta Votazione La Camera resping Ha Giordar demonstrate Scusa, è aperta ancora, Russo, Cani, che succede? La votazione è chiusa, la Camera respinge, siamo al 46 con i Minardi, pare il contrario del Governo, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 47 Ciprini, pare il contrario, votazione aperta. Albanella, Zoggia, è riuscito? La votazione è chiusa, la Camera respinge, Villa Rosa, 48, dichiaro aperta la votazione, pare il contrario. Ci siamo? Colaninno, sì, la votazione è chiusa, la Camera respinge, caso 50, contrario del Governo, votazione aperta. Presi Giacomo, Prina, Matarrelli, Gelmini, Tidei, Labate, Sgambato. Senaldi, Sgambato, non riesce, dichiaro chiusa la votazione, Camera respinge, Cariello, 51, pare il contrario, votazione aperta. Ci siamo? Sgambato, padre il contrario, votazione aperta. Borghi, la votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo al Nuti, 53, non è raccolta la riformulazione, pare il contrario del Governo, quindi votazione aperta. Fanucci, sta votando. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, siamo al 54, Rubinato, onorevole Rubinato, prego. Molto rapidamente, allora, avrei chiesto al sottosegretario come mai un parere contrario a un ordine del giorno che sostanzialmente chiede di emanare finalmente un decreto previsto dal 2012 dal decreto fiscale. Siccome il sottosegretario gentilmente mi ha dato una relazione tecnica in merito, ho appreso da questa relazione che il parere contrario è dovuto al fatto che si ravvisa l'opportunità di una revisione complessiva dell'intero articolo 3 bis del decreto legge 16 del 2012, di cui io chiedevo l'attuazione al comma 1. È una notizia sapere che è proposta la revisione complessiva di quell'articolo 3 bis, che è un articolo importante perché riguarda le agevolazioni sulle accise sul carburante utilizzato nella produzione di energia elettrica e di calore. Quindi capisco il parere contrario e ritiro l'ordine del giorno, sarà interessante entrare nel merito di questa modifica che si propone il Governo. La ringrazio, 55, i Cristian e gli annunzi, c'è il parere contrario, se non viene ritirato lo poniamo in votazione. Votazione aperta.